Ciao Ais, come va? Scusa ci conosciamo? Sei la nuova vero? Tu sei la nuova? No, veramente ci conosciamo da 5 anni Ragazzi venite a salutare la nuova Ciao nuova Billy lo sai benissimo chi sono, non sono la nuova Non so chi tu sia Come mi chiamo? Eleonora Vedi? Lo sai come mi chiamo? Vabbè in ogni caso da oggi sarà una sfigata Buongiorno mondo Oh ciao Jessica Scusa ma ci conosciamo? Siamo stati compagni di classe per tutta la vita Una volta sono stato anche il tuo compagno di banco per ben 4 giorni Sei bravo in matematica? Sì Allora cercherò di ricordarmi il tuo nome E vai Ho detto che cercherò Ma che... È proprio bella Jessica Come? Vuoi un pugno? Scherzo Ele Ah adesso vedi che ti ricordi come mi chiamo Aspetta Prima che il video inizi Cosa aspetti ad iscriverti per far parte della nostra grande famiglia Ed entrare nel team Olivieri Ti aspetta Qualcuno mi aiuti Sono destinata a rimanere per sempre forever alone E ci Ti serve un pazzoletto? Gne 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 Ti serve un pazzoletto? Invece se stornutisco io non viene nessuno da me Proviamo E ciù Stazia e Italia Ehi azzurra Ciao Ehm Azzurra Azzurra sono io Devo andare Ma che cos'hanno tutti Per una volta che provo a socializzare Tornerò a leggere i manga online durante l'intervallo Jessica Possiamo sederci vicino a pranzo? Non lo so Devo vedere la mia gente Anche solo per merenda Jessica studiamo insieme oggi pomeriggio Ti farò sapere Jessica puoi accettare questo mio regalo? Cos'è? Una caccola Eww Ma è fresca! Ma che cos'è Jessica? È fantastica È bellissima È super popolare Anche io sono bellissima Beh insomma Come? Ehi Ti basta facciamo il lavoro di gruppo insieme? Facciamo il lavoro di gruppo insieme? Facciamo il lavoro di gruppo No non è anche finito di parlare Billy? Facciamo il lavoro di gruppo insieme? No Sfigata Ah 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 Nemmeno Billy vuole lavorare con me Stiamo insieme nel lavoro di gruppo Stiamo insieme nel lavoro di gruppo Stiamo insieme Stiamo insieme Stiamo insieme Piano ragazzi Uno alla volta Non posso dire di sì a tutti Con me Con me Con me Con me Mettetevi in fila Dovrò chiamare un assistente Salve sono l'assistente personale di Jessica Prendete un biglietto e attendete Vi metteremo in lista d'attesa Io 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 Vi faremo sapere a breve E con a breve intendiamo Tra una vita E vai avete visto? Avete visto? Sono stata bravissima Ho fatto un tiro fantastico Non era mai successo niente del genere In tutta la storia delle olimpiadi Niente di che Io potevo fare meglio Wow bravissima Sei la migliore Ma ha completamente mancato il canestro A momenti faceva centro nel cesso Ma che ne sai Ele Mica sei un'esperta di basket Che ne sai tu? Ho pubblicato una nuova foto Mi sono impegnata tantissimo con le luci Ho comprato una nuova macchina fotografica Mi sono sistemata il trucco Vediamo quanti like fa 3 like Io Mamma E papà Vediamo cosa succede tra qualche ora 2 like Papà l'ha tolto Fate le mie unghie Solo 10.000 like in un minuto Devo rimediare con un selfie Un milione di like Adesso si che ci siamo Qualcuno sa la risposta? Io 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 Nessuno Io Io Non c'è nessuno che sa la risposta? Io la so È la E Qualcuno sa la risposta? Jessica È Esatto Ma non stava neanche ascoltando Adoro l'attacco dei giganti Io Attacco dei giganti è da nerd Bleh È da nerd Azzurra tu sei un otaku Che dici? Non è vero Se Jessica dice che gli anime fanno schifo Gli anime fanno schifo Figo attacco dei giganti Che figo Eran Yeager Hai ragione Eran Yeager Ma quando guardavo io anime Già 6 anni fa Mi davate tutti della sfigata Non è vero Hai iniziato a guardare anime Solo per copiarmi Sì infatti Ecco qui il mio Materiale scolastico Allora Vediamo un po' Una matita Qualcuno può prestarmi una penna? Fantastico Una ragazza popolare è sempre alla moda E lo è anche il suo zaino Ecco perché ho L'astuccia di Chiara Ferragni Un bellissimo quaderno glitterato Degli occhiali firmati E un profumo costosissimo E quindi disse Sei per seo? Tritta seo! Faceva ridere Perché nessuno ride E quindi disse Sei per seo? Trenta seo! Ehi ma quella battuta L'ho fatta io ieri! Ehi Ais! Jessica! Ehi Jessica! Ehi Ais! Sei bellissima! Grazie! No! Dicevo il mio riflesso La popolare non si fila a Ais E Ais non si fila a me Fantastico! Sono la sfigata delle sfigate Ciao! Vi piace il mio nuovo look? Io Ciao! Guarda Jessica Anch'io mi hai dato il tuo nuovo look Anche io! Ma Lo avevo fatto prima io Ciao a tutti team olivieri Io sono Eleonora E questa era la popolare Versus la normale A scuola Fatemi sapere Chi siete voi a scuola Io ovviamente Ero la Normale E se il video vi è piaciuto Non dimenticatevi Di lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale Se non siete ancora iscritti E di attivare la campanella Delle notifiche Per non perdervi mai Nessun video Noi ci rivediamo In un prossimo video Olivieri Olivoggi Oli sempre Ciao! Sono arrivate le mie nuove Fepe, magliette e zainetti Di Poppy Playtime Le trovo solo su Nerdoverdose.com Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!